Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo? Le notizie di oggi, lunedì 18 novembre. Nel pomeriggio di ieri, domenica, tolte i gazebo delle associazioni, il corso si può dire si sia svuotato per riempirsi poi solo verso il tardo pomeriggio. Dal punto di vista ecologico, la domenica senza auto ha funzionato, a parte qualche scooter e alcune bici elettriche anche a velocità sostenuta, che non inquineranno ma possono diventare pericolose, le auto sono state bloccate ai varchi dalle transenne e dai volontari ADA che li presidiavano. Dal punto di vista attrattivo non si può dire però la stessa cosa, una buona parte dei negozi sono rimasti chiusi, seppur illuminati. I pochi che hanno tenuto aperto hanno quindi potuto contare su un'affluenza probabilmente ridotta rispetto alle aspettative, sono rimasti chiusi anche una buona parte dei baccari in Riva Vena. Il corso lasciato libero e non transitabile per la domenica ecologica non è stato probabilmente sfruttato al massimo, solo al mattino con i gazebo delle associazioni di volontariato, che è giunto in corso ha avuto modo di incontrare qualcosa di diverso e solo per una parte del corso. Il pomeriggio non è stato invece pensato nulla per dare un motivo alle persone di giungere in centro a Chioggia. L'amministrazione ha dimostrato che spendendo poco si riescono a mettere in campo iniziative che riescono ad attrarre. In base a questo è stato un peccato non sfruttare al massimo una giornata che ha reso pedonalizzato tutto il corso. Solitamente la domenica ecologica si trasforma in una giornata di festa, durante la quale si può realizzare ciò che non è possibile fare quando passano le auto. Ieri lo si è fatto in modo solamente parziale. Il tema degli impianti a biogas è praticamente al centro dell'attenzione in Veneto. Infatti sembra che siano oltre 60 gli impianti in attesa di autorizzazione. Le richieste spaziano da progetti di nuovi impianti a proposte di ampliamento di impianti di quelli esistenti. Tra le varie località abbiamo quella vicino a Chioggia, Cavarzare, Trecenta, Rovigo, Tereselle e Padova, ma ci sono anche diversi comuni nella provincia di Verona. L'interesse delle aziende per questo settore è in forte crescita e segno evidente che c'è volontà di investire in soluzione per il fabbisogno energetico, per inciso fabbisogno energetico sostenibile. Ma questo dibattito mediatico appare assolutamente molto squilibrato. Infatti, mentre i comitati locali, sindaci contrari agli impianti, ottengono ampio spazio sui giornali e media, le aziende che promuovono queste iniziative trovano scarsa rappresentazione. La mancanza di informazione e informazione pubblica contribuisce a un clima di diffidenza dove qualsiasi progetto viene accolto con opposizione preconcetta. Tanto per fare un esempio, anche con tutto il rispetto del Presidente della Regione, Luca Zaia, anche lui rispecchia un attesamento contraddittorio. Si è espresso infatti favorevole nucleare, ma solo se lontano da Venezia. Un approccio che non aiuta a costruire una visione concreta per affrontare le necessità energetiche del Paese. Inoltre ci sono alcune mosse, mosse appunto sollevate dai comitati, che parlano di una presunta insostenibilità economica e ambientale. Ci sembrano assolutamente critiche, assolutamente discutibili. Se numerose società stanno investendo milioni di euro in questo settore è evidente che abbiano valutato con attenzione la sostenibilità e la redditività delle operazioni. Nessuno rischierebbe tali somme senza fondate prospettive di successo. In un Paese come Italia, dove i costi energetici sono tra i più alti in Europa, abbiamo ripreso un articolo anche di qualche giorno fa del Corriere della Sera della giornalista Gavinelli, che parlava dove la necessità di diversificare le fonti di energia è cruciale. Secondo l'articolo, ma è un'informazione nota da tempo, l'Italia ha costi per chilowattore, che sono il doppio rispetto a Spagna e Francia. Tuttavia questa urgenza non è assolutamente percepita da chi si oppone sistematicamente agli impianti di biogas. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3500 kg, 01 e 02. di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ieri mattina, durante la Domenica Ecologica, si è tenuta in corso del popolo la festa del volontariato. Mentre la Domenica Ecologica ha coinvolto tutto il corso del popolo, dal Duomo a Vigo e per tutto l'arco della giornata, la festa del volontariato è interessato solo la parte nord del corso, da San Giacomo a Vigo e durante solo la mattinata. Si sono riunite in corso tante tra le associazioni di volontariato che si impegnano nel territorio di Chioggia, facendo conoscere la loro mission e mettendosi a disposizione se qualche potenziale volontario avesse voluto approfondire. Il freddo della mattina, avvolta nella nebbia, sembra però abbia sconsigliato molti dal muoversi da casa e che l'affluenza non sia stata quella sperata. Ma la partecipazione delle associazioni è stata entusiasta, gioiosa, oltre che propositiva, ci ha riferito l'assessore Marangon, dimostrando che i punti in comune possono dare vita a nuove costruttive collaborazioni. La voglia di darsi da fare da parte delle associazioni è tanta e tante sarebbero le potenzialità. L'assessore lancia un appello ai giovani chiedendo loro di donare una piccola parte del proprio tempo agli altri. Vi accorgerete che è una gran bella cosa e riceverete in cambio molto di più di ciò che darete. Fare volontariato significa compiere gesti altruisti dedicandosi al prossimo, al mondo, dando un proprio contributo piccolo o grande e mettendo in campo azioni che possono avere un peso enorme per chi ne riceve i benefici, ma anche per chi le fa. Ogni gesto crea un impatto e un'eco positiva. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Sul Corriere del Veneto di domenica è apparso un articolo firmato da Monica Zichiero dal titolo Da Rosolina fino a Bibione 12 proposti per l'offshore ma mancano i fondi per farlo. Con il sottotitolo Di Blasio i primi tre faranno il progetto di fattibilità tecnico-economica. Il pezzo riporta l'attenzione sui temi dei porti offshore che in realtà, secondo l'informazione che abbiamo, riguardano progetti di porti che sarebbero comunque collegati alla terraferma tramite ponti o persino tunnel sottomarini. L'idea del porto offshore risale addirittura ai tempi dell'ex sindaco di Venezia Paolo Costa che poi era stato anche presidente dell'autorità portuale e ha incontrato negli anni una forte opposizione praticamente da parte degli agenti marittimi a causa dei costi elevati della cosiddetta rottura di carico. Tornando all'articolo, tra le diverse opzioni riportate si parla dell'area di Venezia del Delta del Po a partire da Rosolina e quindi non viene menzionata per niente la possibilità di quel famoso progetto chiamato V-Gate da realizzare di fronte all'isola verde che aveva sollevato tantissime polemiche. Quindi la mancanza della citazione di Chioggia in questo articolo potrebbe anche far tirare un sospiro di sollievo a tutti i detrattori di quest'idea però come appunto sottolineano nell'articolo nulla è ancora definito infatti fino a quando ci sarà una mancanza di allineamento tra governo, parlamento e disponibilità di finanziamento questi progetti saranno molto lontani dall'essere realizzati. L'urgenza di una soluzione è evidente nel link in descrizione vi mettiamo l'intervento del Presidente degli agenti marittimi Alessandro Santi in cui 5 anni fa in Consiglio Comunale parlava del problema dell'inalzamento dei mari e quindi che rende sempre più complicata la gestione dei traffici nei porti di Venezia e Chioggia sia per le dimensioni crescenti delle navi che oltre diciamo alla necessità di avere canali diciamo scavati e adeguati ma anche per la chiusura sempre più frequente delle paratorie mobile del MOSE che pongono un'incognita sulla certezza degli accessi per gli armatori, per gli operatori logistici. Il MOSE stesso che pure essendo operativo e ha dimostrato la sua efficacia nel prevenire le alluvioni trova ancora soggetti che o negano l'evidenza parlano di altre ipotesi che non stanno nei cieli o nei terra oppure criticano costi di esercizio anche non avendo la minima esperienza di quanto costa la realizzazione di un'infrastruttura. Questi parlano che costa troppo ma non sanno neanche quanto costa la realizzazione di una piccola rotatoria oppure per esempio quanto costa la manutenzione di un chilometro di autostrada. Comunque questa lentezza ne riconosce risultati e indicativa di quanto potrebbe essere complesso avviare i tempi medi brevi non se ne parla di scuro sono tempi medi lunghi un progetto esecutivo per un porto esterno della laguna capace di accogliere grandi navi portacontanere e passeggeri. Purtroppo amministrazioni e l'opinione pubblica arriveranno a capire l'importanza di decidere quando il traffico marittimo dei porti di Chioggia e Venezia sarà azzerato. A Fenergia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina dal lunedì al venerdì 8.30 12.30 14.30 18.30 offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso o prezzo variabile telefonina, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro Ricordandovi che la farmacia di turno oggi lunedì 18 novembre è la farmacia Redentore in corso del popolo a Chioggia vi saluto, vi ringrazio se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Burgo San Giovanni vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it canali Telegram e Whatsapp Azzurra Network News la nuovissima app Chioggiaazzurra la pagina Facebook Chioggiaazzurra e il canale Youtube Chioggiaazzurra continuate a seguirci e ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti